Vittorio Villa, sì, sì. Mi dispiace ma sul bosco mi hai colto in castagna. Io lavoro a Stesani, portati la roba alla merda. Salve, mi chiamo Wallace. Devo dire anche il cognome. Mi ricorda una storia. Tagliamo, portiamo la siepe, il contesto del prato, un prato che si è tagliato bene e senza ciuffingilo. Quando mi chiedono che lavoro fai, dico faccio il giardiniere sociale. Cerco di applicare le tecniche di giardinaggio all'ambiente sociale. Noi come cooperativa abbiamo sempre fatto tante cose, abbiamo sempre avuto però difficoltà a mostrarle, mentre forse è importante si fare ma anche comunicare. Tramite questo progetto speriamo di riuscire a far arrivare alla gente il valore di quello che è la cooperazione sociale.